Presentato in un incontro pubblico a Villa delle Favare a Biancavilla il tema di studio nazionale dopo di noi disabilità Alzheimer e amministratore di sostegno. L'attività di servizio è stata organizzata dal Lions Club Adrano Bronte Biancavilla presieduto dal dottor Giosuè Greco in collaborazione con l'Accademia Universitaria Biancavillese diretta dalla professoressa Rosa Lanza. L'angosciante tematica che coinvolge tante famiglie è stata attentamente seguita dai numerosi partecipanti. Ha introdotto l'incontro motivando negli obiettivi sia sanitari che giuridici ed educativo comportamentali intrafamiliari il pedagogista Salvuccio Furnari. Hanno relazionato sotto l'aspetto clinico-medico e farmacologico il neurologo Dino Furnari e giuridico normativo l'avvocato Alida Meli. Il sanitario, oltre ad aver fornito una classificazione delle varie disabilità e demenze ha evidenziato l'importanza di una diagnosi precoce e soffermato sulle modalità operative di approccio della famiglia in riferimento al declino cognitivo dell'ammalato. Il giurista specialista in diritto penale civile ha focalizzato l'attenzione sulle norme legislative e sul loro ruolo e le funzioni della figura dell'amministratore di sostegno. Fra gli intervenuti anche Nino Cardaci e la presidente di zona, Rosa Maria Schinocca, che hanno emesso in risalto la valenza lionistica dell'iniziativa.